Buongiorno a tutti quanti, siamo sul secondo dei messaggi in cui parliamo della donazione, come? Vi ricordate che giochi facevate da bambini? Che giochi facevate? Se avete più di 40 anni eravate come me, abituati a giocare con niente, perché? Perché dico questo perché all'epoca non c'erano gli smartphone, non c'era la playstation, non c'erano tutti quanti giochini elettronici, la tecnologia maggiore che c'eravano qui erano i trenini di Valossi e chi ce l'aveva l'allegro chirurgo? Chi è che non c'erano l'allegro chirurgo? E poi non ho mai capito l'allegro chirurgo che era tremendo, c'erano tutte queste schifezze, si mangiava i bulloni, le viti, ci credo che poi ti serve il chirurgo. Quelle erano le massime tecnologie che arrivavano. Per quanto riguardava il resto eravamo abituati a giocare con niente, perché niente eravamo, bastavano le strade, le case, le campagne che diventavano il nostro tema di gioco. Penso che la cosa che meglio spiega il concetto del giocare con niente sia il gioco del nascondino. Perché per giocare a nascondino servono poche cose in base a niente, cioè servono, se fossero anche in due ma è noioso, ma almeno in tre riesce, almeno uno perché prende uno e l'altro va a fare data. Per cui si servono tre persone, almeno, e un posto abbastanza grande, che può essere un giardino, una casa, insomma un posto che offra la possibilità di nascondersi. E dopo un po' comincia a diventare esperto del nascondino, come lo eravamo noi alla nostra epoca. Per esempio, giocando al nascondino col tempo, avevo imparato che il nascondiglio di ideale doveva essere buio e doveva essere piccolo. Perché chiaramente in un posto buio e piccolo ti avrebbero cercato più difficilmente. Sapete qual era il mio nascondiglio preferito? C'ho la fortuna di potermelo far vedere. Questo. Che cos'è? È una macchina da cucire. È una macchina da cucire che chi conosce casa di mia mamma ancora ce l'ha. Questo, in pratica, si apre questo sportello, si è ribata il nascondiglio da sopra, si tira sulla macchina da cucire, e qua dentro c'è il pedale. Vedo che mi riusciva, ma sì sì, speranze, ma sì sì, lavoro non su. Qua dentro c'è uno sport, spazio abbastanza piccolo, io all'epoca, sono piccolo anche a 57 anni, all'epoca era ancora più piccolo, per cui riuscivo a ficare dentro a chiudere lo sportello, non mi farvi trovare. L'altra cosa che avevo imparato era che per non farmi scoprire non dovevo muovermi, assolutamente non dovevo muovermi. Devo stare assolutamente, mi spero. Allora, e che cosa c'entra tutto questo con la relazione? Dove diamo la fine? Per il momento immaginate, mettete in mente, quest'idea di nascondiglio e del posto piccolo. La scorsa settimana, per chi c'era, abbiamo detto che adorare è scoprire che Dio mi cerca, che Dio è all'attesa di me, e con la condolazione io vado ad abbracciare il mio padre, per farlo esultare, vi ricordate, per farlo esultare con canti di gioia, come nel versetto di soffermi. Oggi voglio sfidare a vedere l'adorazione a un passo più avanti, un passo che non sia soltanto l'accorgersi che Dio ci ama, e l'accorgersi che Dio c'è e andare ad abbracciare. Il Salmo 22 dice così, questo è un Salmo di Dio, Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte senza interruzioni, eppure tu sei il Santo che si è circondato dalle lotte di Israele. La parola che viene tradotta con qui, con siedi, in emmaico, è yashat, che normalmente è riferito non a sedere su una sede come state seduti di voi, o che non siete yashat, sedere in un'altra cosa, ma è sedere sul trono, è il verbo che si mette per i le che siedono sul trono. Infatti una lezione è differente quella della Celi, traduce così questo pezzetto, eppure tu sei il Santo, tu siedi sul trono fra i lodi di Israele. Davide stava parlando di un Dio, del Signore, del Re, che è seduto sul trono e dice che siede circondato dalle lodi. Ora le lodi sono ademazioni. Israele, al capitolo 6, fa un'immagine più o meno simile, però ci spiega un po' di più di questo Re che siede sul trono. Vi darei una seconda. Israele 6, versetto 1, dice così. Nell'anno delle morte di Re Uzziah, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i tempi del suo mantello gli impivano il tempio. Ma che strano, Davide e Israele raccontano in una situazione di crisi, perché Davide stava fuggendo da Sala, che voleva ammazzare, e Israele aveva una nazione che non aveva più a capo, per cui erano due situazioni di crisi brutte, perché non avere un Re significa che il popolo vicini dice «Oh, non c'è più il Re, non abbiamo l'attaccare». Per cui era una situazione pericolosa. Davide era nascosto, mi portava dentro le speronche, perché c'è la Sala, perché c'è la camera, a colore. Allora, e in questa situazione di crisi, guarda che fanno? Credono Dio su un trono. Ma attenzione, c'è una differenza. Mentre Davide si lamenta, perché Dio è lontano, dice «Io sono qua, grido, ma tu stai lassù in trono e non mi senti». Israele invece che cosa fa? Dice che vede che Dio, che è seduto in un suo trono, con i lembi del suo mantello, che riempiono, anche qui Dio è sul trono, in cielo, e i lembi del mantello scendono dove? in terra e finiscono dove? Nel Tempio. Nel Tempio. Riempiono il Tempio. Quale significa questo? Significa due cose fondamentali. Che nei momenti di crisi, Dio continua a essere, Dio continua a essere come era per Davide. Non è che perché Davide era in crisi, Dio non era re. Dio è re, anche per Davide era in crisi. E nei momenti di crisi, il suo mantello riempie il Tempio. Allora, l'abbiamo detto tutt'una volta. Prima di Gesù, dov'era la presenza di Dio? Dove si faceva trovare Dio? All'interno del Tempio. Ricordate, c'era un posto che era il Santa Santorum, in Sarello, è santissimo. Però un attimo, il Tempio è stato distrutto nel 70 d'Apuristo dei Romani. E adesso? Dov'è il Tempio di Dio? Prima Corensia 3,16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abiti in voi. Eccoli il Tempio. Quale è il Tempio dove i lembi del drappo, del mantello di Dio riempiono il Tempio? Quale? Qual è il Tempio che nei momenti di crisi Dio riempie con la sua presenza attraverso i suoi mantello? Stanno riempendo il Tempio di Dio anche adesso, perché quello che è vero all'epoca è vero anche adesso. E se non c'è più un Tempio fisico, un Tempio fatto di travi, pali di legno, colonne di marmo, stavolta è un Tempio fatto di corpo e sangue. Tu e Dio siamo nel Tempio di Dio. Però, perché l'lempie del mantello? Che cosa sta a significare? Che dice l'lempie del mantello? Vi ricordate la varicazione della donna con il flusso di sangue? Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. Allora dice, se riesco a toccare le vesti di Gesù sarò salva. Perché? C'è un motivo. Gli ebrei sapevano che non potevano stare alla presenza di Dio. Vi ricordate Mosè che dice, fammi vedere la donoria? E gli dice, Mosè, non te copieni qua. Mettete dietro un sasso. Copri te la faccia, io passerò e tu mi vedrai la schiena. E nonostante quello, il volto di Mosè era luminoso raggiante perché diceva, no, guarda, se io ti voglio bene, non ti voglio uccidere. Per cui, tu, in presente a me, non ci puoi stare. Il sommo sacerdote, che era il sommo sacerdote, entrava, vi ricordate, una volta all'anno. Dopo aver fatto abruzioni, purificazioni, legato con la corda e con i campanelli per sentire se si muoveva, entrava nel Santa Sant'Orgo, nel luogo santissimo, dove era l'arca del patto con le tavole della legge dentro. Perché loro pensavano che l'arca del patto fosse lo scappetto dove Dio poggiava i piedi. Dio era sopra, con i piedi poggiati, per cui il mantello del Tempio, il mantello di Dio, riempiva il Tempio. Però loro pensavano che io, soltanto toccando il mantello di Dio, toccando qualche cosa che è in contatto con Dio, potrò avere grazie. Questo era il motivo dell'uomo santissimo. Le persone entravano là dentro, non perché c'era tutto quanto Dio, ma perché c'era sotto una parte che era possibile all'uomo toccare di Dio. Era questo il concetto. La donna e la vedova ci credeva in questo e infatti fu guarita, fu guarita dal suo frusto Dio. Dio che cosa stava dicendo a Isai e a Invisione? Dio stava dicendo guarda, io sono sopra di voi, sono sopra di voi. La mia benedizione ovunque c'è, la mia grazia sarà efficace per chi? Per voi che mi lodate nel Tempio, per chi loda Dio nel Tempio anche nel momento di crisi, ci sarà la mia benedizione. Però c'è un problema, la visione di Isai è molto chiara che dice che i legni e il mantello scendono nel Tempio. Questo è cosa che significa che Dio è sopra e il Tempio è sopra. Ora, se il Tempio state qua, i mantelli e i mantelli non li riempiono. Questo significa che per poter avere nei momenti di crisi la benedizione io devo essere allineato con il mio Signore. Io devo, per poter ricevere la benedizione e la grazia che i lembi del mantello di Dio darono, io devo allineare la mia vita con chi? Con Dio e con le sue leggi. In quel momento avrò la grazia, in quel momento io avrò la possibilità di accedere alla grazia di Dio. È molto più probabile che io mangi bene se già sto ai piedi del Signore mentre lui offre un banchetto piuttosto che se sto in mezzo alla strada. È molto più facile che io mi bagni se sto in mezzo a un fiume piuttosto che in un deserto. Ora, la grazia di Dio è cibo per le nostre animi affamate. La grazia di Dio è acqua fresca della nostra sette di giustizia. E adorare Dio quando io adoro Dio nei momenti di crisi mi pone sotto l'autorità di Dio e sotto Dio così che il mio tempio sia lineato con la sua presenza. Da vedo tutto questo ritorniamo al versetto 22 versetto 3 del Salmo 22 che pure tu sei il Dio santo che si è circondato da delote di 3 se sto lodando Dio se lo sto adorando significa che sono sotto di lui. C'è un problema però parlo per me voi sicuramente siete differenti. L'ultima cosa che mi sento di fare quando ho un problema grande è di lodare Dio un attimo. Io mi lamento con Dio sicuramente prego sicuro supplico Dio urlo qualche volta normalmente lo faccio nella macchina così che non mi sente nessuno quando sto andando per strada in una strada lontana ma quello non sto adorando sto supplicando sto chiedendo sto mostrando i miei problemi al Signore ma lo sto adorando. Allora non alzate le mani però pensate quanti di voi quando hanno avuto una brutta notizia stavano attraversando un periodo difficile invece di adorare invece di adorare con la propria vita e con la propria bocca hanno cercato gratificazione in qualcos'altro pronto una brutta notizia cibo dormire alcool anche uno droghe sesso pornografia sono tutte gratificazioni che ottieni nel momento che dici ok le cose vanno male ma sì almeno passiamo un po' di tempo non ci pensiamo e è la nostra attenzione e pre-schede così capitolo 4 del versetto 16 perciò avviciniamoci con piena fiducia al trono della grazia al trono della grazia per ottenere i miei sovi ricordi e trovare la grazia quando siamo felici vero? ho letto bene ah no scusate non è quando siamo felici quando ne abbiamo bisogno tu hai bisogno di grazia nel momento che sei in in sotto pressione che stai attraversando un momento difficile e la grazia arriva tramite la tua adorazione al Signore c'è un pezzetto del Salmo 89 che ci aiuta un pochino a capire il ruolo che gioca l'adorazione nella vita del credente Salmo 89 Salmo 89 è due pagini e mezza però un pezzettino dice così il pezzetto 15 felice il popolo che ti sa acclamare camminerà alla luce della tua presenza Signore qui acclamare in ebraico il verbo teo che significa fare un rumore fare un rumore a sua cara proprio in inglese che ti spaccano ti spaccano le orecchie e in latino la parola in italiana acclamare viene da clamare chiamare ad chiamare qualcuno gridare forte allora quando io acclamo che faccio pensate a quando entra in concerto la rock star che fanno oppure che entra in campo cilipobile o Ronaldo vabbè insomma poi mette la differenza che fanno acclamano urlano urlano di gioia grandi il zannista lega il fatto di acclamare di acclamare di gridare forte che è un modo di dire chiaramente adorare Dio con la felicità che cosa dice felice il popolo che ti sa acclamare cioè se tu operi la tua adorazione acclamazione sarai felice nel nuovo testamento l'abbiamo detto prima volta beato beato tu sei beato tu sei benedetto se acclami se adori il popolo ti sa acclamare è una cosa che non ci viene naturale si dice non è il popolo che acclama che ti sa acclamare perché deliberatamente ha deciso di acclamarti anche nella cattiva sorte il salmo dice che se vuoi essere benedetto beato beato devi acclamare adorare e dice il salmo camminerai nella luce della sua presenza questo è l'effetto come vivi la tua vita stai camminando nella luce della sua presenza in questo momento la tua vita è un camminare nella luce di Dio o no la risposta è no probabilmente perché il tuo debito è da un'altra parte che non è allineato alla Dio dei legni del suo mantello non è intanto nel tuo tempio e non possono portarti la benedizione che lui vorrebbe dargli probabilmente devi semplicemente tornare a adorare Dio con la tua voce devi adorare Dio con l'obbedienza ai suoi comandamenti oppure con la testimonianza di credente non lo so tu lo sai quello che devi fare ritorniamo al nascondino che cosa c'entra tutto questo con il nascondino e ricordate le caratteristiche del mio nascondino ideale il mio nascondino ideale che doveva essere piccolo e buio piccolo a gusto stretto anche qui parlo per me e voi siete sicuramente differenti io ho giocato spesso al nascondino con Dio proprio nei momenti più difficili in quelli in cui avrei avuto bisogno di Dio ho trovato un posto stretto un posto bugio un posto piccolo dove nascondemi chiudendo la porta la macchina da cucinare e non farmi trovare da lui mi rinchiudevo ero io che mi rinchiudevo non erano che mi ci rinchiudevo qualche anno fa ho scritto questa testimonianza che adesso io riassumo parlando di un periodo specifico dove ho giocato nascondino con Dio quasi oltre dieci anni fa ho scritto questo unione di noi passa dei momenti nella vita dove sembra che Dio si nasconda dove ci troviamo nel buio stretti dalle situazioni quest'anno era dieci anni fa compio venti anni di servizio al Signore di servizio al Signore che prima di diventare pastore di questa comunità sono stato coinvolto a un vario titolo con almeno altre quattro comunità in ognuno ho cercato di mettere a disposizione i miei doni i miei talenti ma questo spesso non è sufficiente a far sì che le cose che vino visce al 100% a un certo punto della mia vita di caliente mi sono trovato ad essere coinvolto molto coinvolto come anziano nella produzione di una chiesa abbastanza grande molto coinvolto molto giovane e molto esperto ho cominciato a capire che sebbene amassi le persone con cui conoscevo la comunità e sebbene non amassero me la visione di come portare avanti la chiesa era completamente differente non volevo andare via perché volevo dare ancora e anche perché non c'erano un gran chieda scegli dall'epoca della nostra zona come chiesa non potevo neppure restare come anziano mi sentivo in trappola stretto da due lati la voglia di andare di mettere dietro le spalle i conflitti e quella di restare per poter continuare a dare riceve pensai che la soluzione migliore fosse quella di abbandonare la comunione della chiesa e l'anzianato e rimanere come semplice non fu una buona soluzione ricordo che i peggiori non avevo una gran voglia di adorare il signore cantavo pochi in chiesa la domenica e lo godavo forse ancora meno di un'altra mia giornata o forse non lo avevo mai affatto ma una cosa avevo decisa avrei continuato a stervire il signore lì senza murmurare né parlare dietro le spalle perché quello sarebbe stato in sovvedienza al signore che dice in ebrei 13 17 ubbidite i vostri conduttori e sottometeteli allora io ero deciso di ritornare adesso a un semplice minuto di chiesa che doveva l'oppedienza e sottomizione agli anziani ricordo che non fu facile né breve ma ora guardando indietro so che se non avessi preso quella decisione con tutta probabilità a distanza di anni non sarei stato chiamato a piantare una chiesa nella mia città natale la mia carriera di servitore per il signore si sarebbe interrotta avevo pensato me ne stessi adorando più in compagnia e invece gli stavo dando un tipo di adorazione differente non con la mia voce non con le mie lodi ma allineando la mia vita con il suo volere obbedendo alle sue leggi evitando di peccare come fanno altri ero stato nel buono ero stato stretto ma da buon giocatore di nascondino avevo deciso di non muovermi di fidarmi della promessa che il signore mi aveva fatto tramite una telefonata di una credente dal Canada proprio nell'attimo esatto in cui avevo detto basta non ci vado più in chiesa una telefonata arrivata dopo nel quino due minuti dal mio basta me ne vado che diceva stavamo pregando nel mio piccolo gruppo e ho sentito forte scusate è sempre così che sono strutturato stavamo pregando con il mio piccolo gruppo e ho sentito forte che Dio mi chiedeva di dirti che lui è in serbo per te e per l'opera di molti ciascuna delle benedizioni che tu non puoi nemmeno immaginare ero stato nel buio ero stato sotto pressione ma ora vedo che in quel periodo Dio non stava giocando a nascondino con me lui era lì era sopra il tempio che io avevo deciso di costruire attraverso la mia obbedienza alle sue leggi io avevo riallineato il mio tempio il tempio che erogliò con le sue leggi e lui mi stava benedicendo per quello l'oscurità che avevo provato era una piega del suo mantello la pressione che avevo sentito erano le sue mani che mi avevano stretto al suo fianco era lui che mi aveva nascosto per non farmi trovare dallo scoraggiamento e per impedirmi di finire il mio servizio a lui avevo sperimentato senza essere consapevole quello che sta scritto nel Salmo 91 leggere chi abita a riparo dall'altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente io dico al Signore tu sei il mio rifugio e la mia fortezza il mio Dio in cui io confido tutto questo perché avevo allineato la mia vita alla sua roda il mio comportamento al suo voliere perché l'avevo adorato senza canti e senza rodi ma con la mia vita ed oggi posso avere il frutto della mia donazione vorrei sentire insieme con voi una canzone mi ricordo nel giardino giocavamo nascondino io e te occhi chiusi tu contavi mi nascondevo bene da te pronto o no io vengo ti vedo sai ti faccio tana sei lì dietro quelle foglie grandi arrediti ormai mi ricordo nel primo giardino l'uomo giocava nascondino con Dio occhi aperti ma cuore caduto cercavo un posto nascosto dal cielo pronto o no io vengo ti sedi l'uomo dove sei non ti nascondere dall'amore che ti può salvare perché fuggi da me nascondino l'uomo dove sei Siamo ormai grandi Giochiamo ancora nascondino con Dio Ci copriamo con scuse e bene Mascherando i dolori e le paure Pronti o no, io vengo Il cielo, il crocifisso re Fate di me il vostro nascondiglio Arrendetevi a me Mi ricordo nel giardino Giocavamo nascondino io e te Forse in questo momento Non cercare un posto buio e stretto Non cercare un posto piccolo Ma cercare il trono di Dio e metti la tua vita sotto al trono di Dio Sotto di esso Adora Dio Adora Dio con la tua vita Adoralo con l'obbedienza alla sua parola e alle sue dirci Vieni a immergerti nel fiume della grazia Allinea la tua vita Allinea la tua vita sotto al trono Dagli il benvenuto e fallo entrare dentro il tuo problema Gesù ha detto Gesù ha detto Grazie Padre Grazie Padre per essere un Dio e un Padre che non si nasconde con lui Ma che ci cerca Se tu sei stato colpito da qualcosa Da qualche argomento Che hai sentito oggi Prega queste cose a me Ma siano anche in tuo cuore Signore io non voglio nascondermi da te Non voglio giocare nascondito Io ti cerco Io ti voglio adorare in questo momento Anche se in questo momento c'è dolore nella mia vita E voglio riallineare la mia vita sotto al tuo trono Perché i lembi del tuo mantello Perché la tua presenza possa riempirla e portarmi in benedizioni Signore io voglio adorarti non soltanto con le mie parole Ma con il mio corpo, con la mia vita Con l'obbedienza alle tue leggi A quello che tu hai scritto per me Perché so che le tue leggi sono eterne E sono benevole verso di me Ti prego Spirito Santo di starmi a fianco In questa sfida Che oggi vedo davanti a te Signore Tutto questo lo prego nel tuo Santo Papa Signore Gesù